Il no contact è una strategia potente che viene utilizzata per sanare le ferite dopo una rottura, dopo aver vissuto una relazione disfunzionale, ma anche per vedere limpido e chiaro tutto quello che è successo all'interno di quella relazione. Tuttavia, in alcuni casi, nonostante la distanza, nonostante il tempo che passa, la paura del ritorno dell'ex che ti ha fatto tanto male, che ti ha ferito, rimane una costante. E questa paura non è solo un timore di incontrarlo magari inaspettatamente in strada, al supermercato, magari in qualche locale, ma soprattutto è legata alla tua consapevolezza di sentirti ancora vulnerabile di fronte ad un incontro, di fronte ad un ritorno suo. Vediamo in questo video cosa sta sotto questa vulnerabilità. Che bisogna fare? Come bisogna affrontarla? Bisogna accoglierla o bisogna negarla, rifiutarla? È una questione di mancanza di consapevolezza, di scarsa consapevolezza, di mancanza di motivazione o c'è qualcosa di più radicato? Capire qual è l'annello debole che ti tiene incattennato a questa paura è essenziale per poter sviluppare e acquisire più forza interiore. Allora nella prima parte del video vediamo perché questa paura. Cos'è questa paura? Perché mi sento così vulnerabile? Mi sento vulnerabile ad incontrarlo improvvisamente per strada oppure mi sento vulnerabile perché temo di ricadere ancora nel ciclo tossico? Vediamo cosa succede, cosa sta sotto, ok? E nell'ultima parte del video vediamo un po' di strumenti per superarla, affrontarla oppure negarla. Perciò entriamo subito nel tema. Allora se questa tua paura, se questo tuo timore di incontrare il tuo ex, la tua ex, non so, inaspettatamente per strada durante il periodo di no contact, durante questo periodo in cui tu hai deciso di star lontano perché vuoi capire cosa succede all'interno di questa relazione che ti fa tanto soffrire, ok? Se c'è questo timore di incontrarlo inaspettatamente per strada, magari nei primi mesi, ok? Del no contact e del tutto normale, perché è un po' come il tuo corpo ti dicesse, stai attento, mettiti in guardia perché questa persona ti ha ferito molto, questa persona ti ha provocato tanto male. Se succede che incontriamo l'ex per strada, non meravigliamoci perché io mi sento a disagio, perché è del tutto naturale, è del tutto naturale perché è una reazione del nostro corpo che ci dice stai attento, mettiti in guardia, stai in guardia. Perciò ci sta, ci sta che ti senti un po' a disagio, ci sta che pensando ad incontrarlo già il pensiero ti mette un po' a disagio. Il mio consiglio è questo, che anche se lo incontri, anche se la incontri inaspettatamente per strada, sii te stessa. Basta pensare cosa pensa se mi vede un po' a disagio, cosa penserà se mi vede, non so, gli occhi lucidi o se mi vede emozionato o emozionata. Fregatene di cosa pensa l'altro, basta. Altrimenti se questo timore, se questa mia paura di incontrare l'ex o la ex è legato ad una mia vulnerabilità perché temo che posso ricadere nella relazione, beh, questa è un'altra cosa. Questo vuol dire che non sei del tutto sicuro, non sei forse del tutto pronto per chiudere questo capitolo. Ed ecco come nonostante ti ha provocato tanto dolore, nonostante insieme a questa persona hai sofferto molto, nonostante la relazione è stata un po' up and down, un continuo up and down, nonostante vi siete lasciati ripresi più volte e più volte, nonostante tutta questa sofferenza, nonostante questo movimento sfinente, ok, tu ti senti ancora vulnerabile di ricadere ancora in questo ciclo. Beh, questo vuol dire che c'è qualcosa di non del tutto guarito, ok, c'è qualcosa dentro che non è ancora completamente guarito. Spesso questa paura di ricadere nel ciclo tossico è legata o ad una scarsa consapevolezza o è legata ad una scarsa motivazione. Ecco, è importante comunque distinguere qual è la parte debole, dov'è l'anello debole per poter sistemarlo, è molto importante questo. Nelle mie consulenze di coaching lavoro molto sulla consapevolezza, molto sulla motivazione, soprattutto per mantenere consapevolezza e motivazione ad un livello alto, a non avere oscillazioni. Sono normali le oscillazioni, i sentimenti ambivalenti, però è ottimo, ok, non solo sapere, sì, questa relazione non mi fa bene, ma anche avere gli strumenti, ok, sapere come fare per mantenere sia la consapevolezza che la motivazione alte. Perché ecco cosa favorisce il cambiamento. Parliamo un po' della consapevolezza. Ecco, senza avere una buona consapevolezza, magari, non so, ci sono dei schemi di pensiero che si ripetono, vecchi schemi di pensiero che si ripetono e tu sei lì nel loop a chiederti continuamente, non so, non capisco perché nonostante mi dice che mi vuole bene, che mi ama, faceva questo, faceva l'altro. Oppure non capisco perché fa questo eppure mi cerca. Non capisco perché mi diceva di amarmi, ma poi usciva con gli altri, con le altre. Non capisco perché mi diceva che sono una madre del tutto pessima, ma poi a volte era dolce e premuroso. Ed ecco come il non capisco diventa un leitmotiv nella tua vita adesso durante il no contact. Ecco cosa vuol dire mantenere una buona consapevolezza. Ed ecco come tu vivi così, no, con questo rimuginio continuo, non capisco perché, ti fai continuamente queste domande perché tu non sai bene dove è il problema, ma hai questa convinzione che solo con il tuo ex tu ti senti completo, completa. Perché solo se lui o lei tornasse nella tua vita, risolverebbe tutti i tuoi problemi. Sicuramente lavorare sulla nostra consapevolezza durante il periodo di no contact fa la differenza. È essenziale per spezzare il ciclo tossico e per impedire a ricadere nelle stesse dinamiche, vecchie dinamiche. E parliamo adesso anche della motivazione, perché una volta che tu hai acquisito una buona consapevolezza, hai capito qual è il problema, sicuramente il passo successivo è avere una alta motivazione sempre. Le relazioni disfunzionali, nonostante il male che ti portano, nonostante la sofferenza, il dolore, creano una dipendenza, una sorta di dipendenza emotiva. E nonostante tutto il male, nonostante la sofferenza, tu continui a pensare al tuo ex, alla tua ex e dici ma allora vuol dire che l'amo. No, non è, non è, non è sinonimo di amore questo. È un segnale importantissimo, ok? Soprattutto perché parliamo di relazioni disfunzionali, di quelle relazioni che ti hanno fatto tanto male, in cui tu sei stata molto male, in cui tu stai ancora molto male. Perciò è un segnale di un rapporto disfunzionale basato su abitudini emotive malsane. Non è amore. Questo non è amore se tu sei nel periodo di no contact e continui a pensare ossessivamente al tuo ex, alla tua ex. No. È essenziale invece lavorare costantemente sulla motivazione, ricordarsi anche le cose negative che sono successe all'interno di quel rapporto. Fare un passo in avanti, ok? E accettare la fine di un rapporto, fare un passo in avanti e accettare anche che posso essere gelosa, posso essere geloso perché magari penso chissà con chi è, chissà con chi va, chissà non so quanti uomini, quante donne avrà incontrato. Ci sta ed è del tutto naturale sentire tutto questo, ma sono sentimenti che fanno parte del processo di guarigione e vanno semplicemente accettati. Ma poi, senza una buona motivazione, ti ritrovi a ridimensionare l'immagine del tuo ex, della tua ex. E la vedi là ancora sul piedistallo. dici, ma che bella persona che era alla fine, perché vedi, ho incontrato solo casi umani fino adesso, quello è peggio dell'altro, quello non lo so, quello tradisce la moglie e mi fa degli avance, quello... e poi magari tu dici, era meglio forse lui, era meglio forse il mio ex a questo punto. Non bisogna trovare scuse, non bisogna giustificarlo per quello che ha fatto, per tutta la sofferenza che ti ha provocato. Non va cancellata tutta questa parte. Anzi, è molto necessaria, ok, visualizzare verso la portata di mano tutte le cose negative che ti ha provocato questa relazione con questa persona. E la domanda da porsi è, cosa vuoi davvero per te stesso? Che cosa voglio io per me stesso? Che cosa voglio io davvero per me? Vuoi davvero tornare indietro e perderti? Oppure vuoi progredire? Vuoi andare avanti verso una nuova fase della tua vita? Accettare e abbracciare il cambiamento? Essere curiosi verso cosa la vita mi riserva? Spesso vedo questo problema nelle mie consulenze, le persone che arrivano da me dopo un buon periodo che magari cercano e provano. Il problema non consiste nel fatto che la motivazione è zero, ok? Ma che la motivazione non è del tutto chiara e non si riesce sempre a mantenere a livelli alti perché non si ha gli strumenti, non si conoscono gli strumenti, no? Non so perché io non ho una buona motivazione, non so perché non mi è tanto chiaro, ma non so neanche come fare per mantenerla sempre alta la motivazione. Ed ecco come quando la motivazione vacilla è molto facile cadere nella tentazione del ritornare al familiare, anche se quel familiare, quell'ambiente, quella persona, quelle dinamiche, mi fanno tanto male. Perciò ecco cosa bisogna fare. Sicuramente il primo passo più importante è lavorare sulla tua consapevolezza, sulla tua motivazione. Non trascurare questi due aspetti durante il periodo di non contact. Non bisogna essere trascurati. È fondamentale lavorare costantemente, quotidianamente. Usare il diario come il tuo miglior amico in questo periodo. Bisogna scrivere là come ti senti, ma soprattutto sulla prima pagina del diario, tutti gli elementi negativi che ti ha portato questa relazione. Sicuramente la meditazione, sicuramente le tecniche di respirazione possono aiutare non poco, soprattutto in quei momenti in cui ti manca, perché ci sono dei picchi in cui tu devi imparare a trovare le strategie utili per far sì che superi quei momenti. Perciò sicuramente la meditazione, le tecniche di respirazione sono degli strumenti molto vali. Puoi occuparsi di se stessi, cura di sé, l'igiene del sonno, l'alimentazione, avere una routine, creare una routine, ripartire proprio dall'ABC, costruirti una buona routine. Perché quando si esce da un rapporto tossico, da un rapporto così burrascoso, si perdono tutte le buone abitudini. Mangi nel letto, dormi di giorno, ti assenti dal lavoro, non vedi gli amici, ti isoli, oppure vai tutte le notti fuori, bevi eccetera eccetera. Aver connessioni con le persone, ma con persone autentiche, con persone che ci tengono a te. Anche perché così tu non hai fame di quell'altra roba. E concludendo, stringendo, dico questo. Identifica allora qual è il tuo anello debole. Lavora sulla motivazione, lavora sulla consapevolezza, ma in modo continuo, costante, regolare, perché così acquisisci forza interiore. Che deriva non dal evito di la tentazione, ma so ad affrontare perché ho gli strumenti per affrontare, per superare questa fase transitoria della mia vita. Grazie che siete stati con me. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto ancora. Lasciatemi un like. Se avete bisogno una consulenza, lascio qua il mio sito e ci vediamo presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.